Il incontro di oltre due ore tra Conte e la delegazione di Italia Viva non c'era Renzi però. Questo vuol dire qualche cosa e chi sta cedendo? Ha ragione Silvia Morelli quando dice che è già stata tolta di mezzo la task force, quindi Conte sta cedendo. Mi sembra di poter dire che ancorché molto bello e suggestivo, il sogno che ha fatto Antonio non diventerà realtà. Perché la banale ragione è sempre la solita, è il Mark Twain all'italiana, cioè la notizia della morte del governo Conte è fortemente esagerata. Anche stavolta, anche stavolta. Io dico che il giorno di verifica di oggi testimonia ancora una volta che Matteo Renzi è un giocatore di poker, al quale ormai è rimasta solo la tattica e non più la strategia. L'ha anche detto, no? L'ha detto, però il problema è questo però, ha ragione Antonio, perché noi dobbiamo scindere. Le discussioni che riguardano il palazzo, cioè il mondo della politica, con i suoi incunaboli, i suoi sofismi, i suoi binzantinismi, è quello che invece pensano gli italiani. Allora, io dico peccato che il sogno di Antonio non sia vera, perché io avrei capito, capirei, se mi metto nei panni di un cittadino medio, capirei il ragionamento di Renzi se portasse alla crisi di governo. Cioè, ammetto di aver fatto un errore a sostenere un governo che non è il mio, perché qui dentro ci sono partiti, Movimento 5 Stelle, lontani anni luce da me, e politici, il Presidente del Consiglio, che non riflette in alcun modo il mio modo di vedere e di fare politica. Quindi il governo va a casa, tolgo la fiducia a questo governo. Bene, avrebbe senso, avrebbe senso. Si può condividere o non condividere, ma avrebbe senso. Se invece tutto questo, dico un'altra parola che non usa qui nel tuo salotto, tutto questo bordello che da un mese ha paralizzato la discussione politica del governo e della maggioranza, precipita in che cosa? In un rappattumamento sulla task force, che forse non c'è più, forse ce ne sarà un pezzetto. Ma comunque, tanto basta alla Bellanova poter uscire di lì e dire la task force non c'è più. Poi ci sarà ancora, secondo me. Ma comunque, lo vedremo. E poi magari qualche poltroncina, qualche strapuntino in più. Bene, abbiamo perso un mese e mezzo a litigare per che cosa? Per questo? Ecco, questa è l'irresponsabilità della politica oggi. Gli italiani, con tutto che hanno manifestato anche loro una certa stanchezza di fronte a certe restrizioni, non meritano questo. Non lo meritano. Quindi io penso che alla fine, se finisce così, Renzi la pagherà, anche dal punto di vista dei consensi.